allora ragazzi buongiorno buongiorno a tutti videino tutorial come si controlla l'olio al camion è venite con me venite con me vieni vieni con me adelaia del ai adelaia del ai bombo andiamo come si controlla l'olio al camion ragazzi vediamo un po come è difficile controllare l'olio al camion vediamo un po allora eccolo qua volete la temperatura volete il livello vabbè da vediamo il livello livello dell'olio riempimento ok diamo la temperatura eccola qua seguitemi per altri consigli ragazzi domani vi faccio vedere come si beve ciao ciao a tutti